Elia Viviani, campione olimpico di ciclismo su pista a Rio de Janeiro 2016, specialità Omnium, che in latino significa di tutto, ma anche di tutti, tutti i corridori, tutti i ciclisti, compresa la biblioteca della bicicletta Lucas Cozza. Per me la bicicletta è libertà, è anche solitudine, a volte quando ho bisogno di un momento tutto mio, lontano da tutto e da tutti, parto in bici e mi faccio il mio allenamento da solo, per me significa proprio trovare me stesso un momento in cui riesco veramente a pensare a me e a quello che mi gira per la testa. Per me il ciclismo è passione, è passione perché quando salgo in bicicletta la mattina mi sento veramente un uomo fortunato a fare della mia passione, di quello che mi piace, il mio lavoro e quindi poterlo fare tutti i giorni con determinazione, con degli obiettivi importanti, questa è la cosa che mi rende felice, quindi penso che la passione prima di tutto sia quello che riguarda il ciclismo per me. Se riguardiamo indietro penso che di storia ce ne siano tantissime, tutte queste cose penso che possano essere riassunte nella biblioteca della bicicletta.